Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. A quest'oggi vedremo un tweak molto molto bello di Sidia che si chiama Apex 2. Cosa tweak ci permette di sovrapporre le icone? Per esempio se noi prendiamo l'applicazione per memoria e la scorriamo verso il basso, come vediamo appariranno dei più. Se noi clicchiamo su uno di essi, apparirà quest'altra cartella con dentro le applicazioni di iPhone. Selezioniamo ne una, per esempio orologio. Poi ne selezioniamo un'altra qua, per esempio memo vocali e qui mail. Per realizzare le applicazioni nascoste dietro la prima, dovremo fare uno swipe verso il basso. Infatti se noi lo faremo, apriranno le applicazioni nascoste. Per esempio se noi premiamo orologio, ci appaiono tutte le ore. Quindi le applicazioni funzionano. Andiamo a vedere le impostazioni di questo tweak. Allora, come vediamo, qua ce lo troviamo. Qui c'è la guida utente, che però non vi consiglio neanche di leggere. Poi andiamo in configurazione e possiamo modificare le cose. Allora, l'anteprima sub-apps ci permette di vedere le piccole linguette sotto le nostre applicazioni, che così ci fanno capire che sotto c'è qualcosa. È possibile utilizzare anche il tema grabbers, che praticamente le linguette rimangono solo verso l'altro o verso il basso. A me non piace e quindi metto quello originale. Poi c'è un'altra impostazione che si chiama accesso alle apps. Praticamente è il modo in cui noi possiamo aprire quelle applicazioni lì. Se noi di default è impostato swipe verso l'altro e swipe in basso. Se noi impostiamo anche doppio tap per aprire le applicazioni, basta che tocchiamo due volte le app e ci esce con le icone. Un'altra cosa interessante è l'accesso allo spotlight. Perché noi con questa tweak faremo fatica ad accedere allo spotlight. Perché infatti adesso volevo tirare giù lo spotlight, ma in realtà non riesco bene perché ho questo tweak. Se noi facciamo così, potremmo accedere allo spotlight premendo la barra di stato. Così ci esce senza fare fatica. E così giunti all'ultima parte. Allora, chiudi pila quando apri app serve per far questo. Se noi apriamo quest'app e apriamo orologio, per esempio, quando lo chiudiamo, lo avremo riportato al menu home. Se invece noi faremo così, disabiliteremo questo. Quando noi apriremo orologio, o meno vocali o mail, e chiuderemo, ritorneremo a questo punto. Poi, soma e badge notifica permette di sommare tutti i badge notifica. Come dice, se qua abbiamo una notifica, qua 2 e qua 3, facciamo 6 notifiche che ci appaiono qua direttamente nella home. L'ultima impostazione permette di modificare se creare nuove pile. Perché se noi è abilitato, potremmo creare anche altre pile con altre app. Se invece noi lo disabilitiamo, non potremo più creare pile con le altre app. È un po' un modo per utilizzare lo Sputlight senza premere due volte e senza influenzare il suo comportamento. Bene, ragazzi, il video di oggi finisce qui. Se il video vi è piaciuto, fatemelo capire con un bel mi piace. Condividete e soprattutto iscrivetevi. Inoltre, in descrizione, vi lascio il link nella mia pagina Twitter e Facebook. Grazie per la visione e ciao a tutti. Grazie per la visione e iscriviti al canale.